Noa! Sona! Figlio! Tuo padre vorrà vedere. Molto da imparare. Molto da insegnare. Ci sono pericoli. Oltre il nostro villaggio. Oggi è un giorno magnifico! Aiuta tuo padre! La mia famiglia... Li troverò... ...e li riporterò a casa. Per sopravvivere, ricorda la tua forza. La compassione... ...la pietà. Perché le danno la caccia? Conosce i segreti degli umani. Io ho un nome. Mei. So dove stanno portando il tuo clan. Tu hai scelto un'umana e non una scimmia. Era un posto umano. Non è tuo! Adesso lo è, ti assicuro. Gli anziani... ...non ci hanno detto... ...tutto... ...su questo mondo. Noa, piegati al tuo re. Mai. Grazie a tutti.